Iniziamo la presentazione dei componenti della nuova Assemblea Legislativa per questa nona legislatura. Iniziamo con Gianluca Busilacchi. Mi chiamo Gianluca Busilacchi, ho 34 anni, sono il consigliere regionale più giovane della maggioranza, sono stato eletto per il Partito Democratico a Dancona, dove sono stato consigliere comunale due volte. I temi di cui mi occupo prevalentemente sono i temi del sociale, del sanitario e anche del mondo del lavoro, quindi sono i temi che anche oggi nella prima seduta sono stati indicati come i temi su cui si punterà di più per questi prossimi 5 anni, per questa legislatura, quindi mi impegnerò a fondo. Alcuni temi sono stati già indicati, quello del reddito sociale, su cui ho fatto anche campagna elettorale. Sono contento che molti dei temi indicati da SPAC sono stati i temi su cui ho fatto campagna elettorale, anche il distretto del mare per quanto riguarda lo sviluppo e la tutela della non autosufficienza. Quindi diciamo che su questi due o tre temi mi occuperò prevalentemente.